Le telecamere di video sorveglianza che coprono le zone interessate della città adriatica sono già al vaglio della polizia e potrebbero quanto prima ricostruire quanto accaduto mercoledì scorso a Pescara quando un allarme bomba ha paralizzato la città. Gli ordini poi risultati finti come chiaramente riportavano i volantini allegati erano indirizzati al sostituto procuratore Rosangela Di Stefano. Il cerchio si sta stringendo su una donna vestita di nero e con il viso coperto da grandi occhiali neri e mascherina chirurgica. La stessa donna che sempre dalle telecamere pare abbia fatto dei sopralluoghi nei giorni precedenti. Non si esclude nemmeno che la donna abbia agito da sola. Stando alle prime relazioni inviate dalla squadra mobile alle due procure che stanno indagando la sospettata e forse già iscritta sul registro degli indagati risulta essere Daniela Lorusso conosciuta e più come Lady Kumadin e già indagata e sotto processo insieme al figlio Michele Grosso per tentato omicidio del secondo marito al quale avrebbe somministrato massicce dosi di Kumadin potente farmaco anticoagulante e dove l'accusa è rappresentata proprio dal PM di Stefano. La casa della donna e il suo ufficio sono stati già perquisiti da parte della polizia che ipotizza la violazione dei reati di minacce aggravate, interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. Ora le accuse dovranno essere vagliate dal sostituto procuratore Salvatore Campochiaro che conduce le indagini le quali dovrebbero spostarsi presso la procura di Campobasso essendo coinvolto in qualità di parte offesa un magistrato.